Allora, a chi va ad iniziare? Signor Barnes, perché Sam la infastidisce? 15 secondi a lancio! Qual è il piano? Ehi! Ottimo! I supereroi non sarebbero dovuti esistere. Non ho intenzione di lasciare il mio lavoro incompiuto. Ora il mondo è sottosopra. Da dove iniziamo? Buck, anch'io ho un piano. Ah sì? E qual è? Ci rischiamo, eh? La ragazza ti ha fatto il culo. Visto? Non era difficile. Ok, che fate? A chi abbassa prima lo sguardo? Sbattete le palpebre, santo cielo. Ma quanti anni avete? Sbattete. 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 Sbattete.